Sono passati 15 giorni da quando alcuni operai hanno ripulito il ponte sull'albola di Punta Lido dai lucchetti dell'amore. Questi infatti vengono attaccati come gesto romantico da numerose coppie e il ponte non veniva pulito ormai da alcuni anni. Così i lucchetti erano diventati centinaia. Ma la tradizione popolare non può essere cancellata con tronchesi e mole a disco. Dopo il lungo lavoro del comune per togliere ogni lucchetto, ecco che le coppie hanno ripreso ad attaccarne già di nuovi. Un gesto divenuto ormai un'usanza di carattere mondiale, al punto che ci siamo abituati a non ritenerli più un elemento di disturbo ma un simbolo dell'amore. Sempre che il comune non torni a cancellare tutto.